Sarà una strada lunga ma mi auguro che le regole che si scriveranno saranno anche regole che punteranno alla massima partecipazione delle persone al nostro programma congressuale e per arrivare a questo confronto. Faccio un appello a tutti gli italiani che vogliono cambiare, scrivetevi in agenda la data delle primarie e venite a votare e mi permetto anche di suggerire a chi scriverà le regole, facciamo partecipare tutti, chi verrà in gazebo dovrà sottoscrivere e dare un contributo perché è un elemento di civiltà ma eliminiamo anche quei due euro da pagare a persona per votare, perché per votare non bisogna pagare, bisogna chiedere una sottoscrizione.